Eccolo, auguri. Grazie. Guarda un po', che è la Nutella questa? Che è? Non è un vino. Non è un torrone. E' da taschino, vedi. Vedo, è da taschino. Questo lo metto in tasca adesso e vibra, ma non te perdi. Opa, lo rompi. Eh? Togli la cosa immediatamente. Ma perché? Subito. Ma perché? Perché prima cosa è vecchia, superata. E' sempre bella però. Come no? Perché no? Ma a sudoku come si è messo? Come? Tipo? Sì. No, questo leva, lo sai incredibile. Come si è fatto? Ma non lo leva. Ma dai, Federico, ma sei proprio un scemo. Passatelli. Passano, eh? Passatelli. Comunque, Riccione è sempre Riccione. E' una delle città venete che preferisco e mi ricorda tante tante cose. Soprattutto quando andai in viale qua e ti dicevano, ragazzi, stasera a ballare. Ah, che bello. Amo Riccione, amo il Veneto. Piccolo, fai le foto ai pini. Incredibile, i pini marittimi. Eh vai, più su. No, tienilo più su il cellulare, va. Più su. Ma tu ci venivi a Riccione quando eri giovane? Ah, è che passi? Sì, bravo ragazzo. Sì.